In studio, con i miei allievi, lavoro così. Vieni a vedere! Qui? No, troppo, troppo poco. C'è un sacco di roba che ci hai messo qui già. Troppo? Eh sì, perché ormai ti tocca lasciarla asciugare. Ci insistevo perché, come vi avevi detto, era una parte molto luminosa. Tu insistevi ma con troppa calma. Con troppa? Troppa cautela. Vedi che viene fuori? Però adesso mi tocca esagerare col bianco. Che bianco è questo? Eh, credo che sia di zinco. Di zinco. Di zinco. Ah, infatti perché lo sento gommoso. Sì, aspetta che lo controllo. Esatto, di zinco. Anche guarda, qui è tutta luce. Qui. Piani facciali. Guarda, da qui a qui c'è sempre luce. Lo vedi o no? Sì, 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 sì. Ti devi ristudiare un po' i piani facciali. Difatti sale anche, no? Quella linea di luce. Anche qui c'è, eh, vedi. Poi qui, ah, sì, sale, vedi. Ah, lo vedi? Allora lo vedi. Ma lo vedo come? Lo vedi e non lo fai? Non lo so rappresentare, ma lo vedo. Poi qui sale qui al centro, vedi? Sì, come no? E poi mi gira qua. Esatto, nello zigomo. No, me lo zigomo. E allora che vuoi? Sai tutto, mi viene a chiedere. Sono tutto, ma... Perché mi vuoi vedere lavorare a me? No, no, perché... Vuoi vedere se sono capace, io l'ho capito. Eh, 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 tanto che parli, fammi vedere, vediamo i fatti. Sì. No, metti che tu abbia il tuo soggetto e sono aperto. Te l'aggiusti da solo? Guarda che anche qui tu c'hai... Anche lì c'è luce, c'è luce, no? Sì. Santo cielo... C'è, 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 caro. C'hai. Poi ce l'hai qui. Dimmi. Qui, tac. E poi ce l'hai qui, panc. Panc. Non stai scendendo sul collo e sulla spalla. No, vabbè, quello... Qualcosa dovrei dipingere anche tu, no? No, no, volevo dirti questo, perché vorrei vedere subito, perché anche le spalle mi sembrano molte luminose a sinistra, no? Abbiamo una forte carica di luce. Infatti che io non so adesso dove hai... dove c'ho colore fresco e dove non c'è no. Quindi non vorrei... però vedi che questo qui, qui anche... Qui tutta roba... e poi anche qui, sì, certo. C'è, c'è, c'è... Se c'è, se c'è... Va bene, va bene. Anche qui, perché non te l'ho adesso... No, no, va bene. Qui mi piace, qui però un po' di più glielo puoi dare... A questo punto qui, su questo punto del naso. Io non lo faccio il lustro, perché ancora non è il momento, però... Però è più chiaro qui. Lo stai... Lo stai un po'... Lo stai un po' modellando. A questo punto forse qui ti puoi pure azzardare, però con meno. In effetti qui dovresti... Perché qui è freddo, è ombra. Sì. Questa è in ombra. Allora, te lo... quindi è in penombra questo qui. È un penombra. Questo chiaro. Sì. E poi te li devi tutti sfumare, però, quel lavoro di sfumatura te lo fai dare. Sì. Guarda che ce l'hai anche qui, luce, eh? Come no. Eh. Vedo, vedo. Ok. Lo vedi che è un piano... Guarda, ti ricordi il modello di Rayleigh? Sì, sì, sì. C'è una linea che va dall'orecchio... Sì. ...al mento, vedi? Sì. Questa qui... È qui. Certo. E ti fa girare... Ti fa girare il piano. Il piano. E la devo evidenziare ancora maggiormente. Ok. Buon lavoro. Grazie. Grazie a te. La tavolozza. La tavolozza. La tavolozza è mia. No. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo. Lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9 e mezza di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu. Oh, oh. Grazie a tutti.